Stanno suonando i beatbox, un gruppo di Milano ma con l'anima a libertà. Solo Mersey Beat, solo Mersey Beat. O diciamo che Mersey Beat è un po' un'etichetta un po' fasulo perché alla fine è solo rock'n'roll ho fatto magari un pochettino più veloce. C'è Chuck Berry e Mersey Beat. Diciamo il genere di Beatles pre-Beatles. E' quello proprio... I Beatles ovviamente è un punto di riferimento. Abbiamo una condizione molto larga. Sì sì, però alla fine buttiamo dentro, come vi ho detto, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly e poi i gruppi ancora anche un po' meno conosciuti. Beh, Johnny Kittin. L'immel ahui di l' resultata è 6ってi le erano Le erano rein ats Le erano le brazzie le leggi anche gruppi che facevano ricerchino ritmi e blues in America che hanno raggiunto il da di fama, di molto molto famoso, Larry Williams e tutti quei gruppi nico, a livello locale che forse sono più dei nico. Grazie per la visione!